Evento pubblico all'Aquila di Fratelli d'Italia per raccontare il primo anno di governo Meloni, all'Aquila anche il deputato Augusta Montaruli e supportare gli esponenti locali del partito nella campagna informativa lanciata in estate. In Abruzzo gli occhi sono tutti puntati sulle prossime regionali e sulla riconferma del presidente Marsilio. La passione non va in vacanza e anche nel mese di agosto Fratelli d'Italia è impegnata in tutti i comuni e nelle località turistiche proprio per dire, raccontare quello che ha fatto il governo Meloni e che sta facendo. Tanti sono i temi, direi che molte delle nostre promesse di campagna elettorale stanno già trovando attuazioni innanzitutto sul tema del lavoro e con l'abolizione del reddito di cittadinanza ma l'introduzione di misure che incentivano il lavoro. Il taglio del cuneo fiscale è stato record, adesso chiusa questa campagna ci impegniamo per la prossima manovra di bilancio. Ecco, ovviamente questa è una terra in cui l'attenzione è molto puntata sulle regionali e sulla riconferma di Marco Marsilio che tutti ha auspicato. La bravura di Marco Marsilio parla da sé, non c'è bisogno di fare pronostici perché c'è già il suo merito che parla ai cittadini. Praticamente le liste di Fratelli d'Italia sono pressoché fatte sui territori, l'obiettivo a quanto pare piazzare due eletti per provincia. In provincia dell'Aquila, oltre a nome di Verrecchi e Quaglieri, i più accreditati sono il presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini. Si è parlato pure del capo di gabinetto del sindaco Biondi, Andrea Di Biase, ma l'ipotesi sembra sfumata. Ma un altro nome che circola è anche quello del sindaco di Navelli, Paolo Federico. Solo uno tra questi entrerà in lista. Federico sarebbe molto oggettonato dal senatore Guido Liris e per i beni informati ci sarebbe stata anche qualche frizione sulla questione che il coordinatore cittadino Michele Malafoglia però smentisce categoricamente. Diciamo che stiamo lavorando per concludere le liste, c'è ancora una fase di riflessione ma siamo a buon punto come lavoro. All'Aquila si parla un po' di malumore, diversi nomi impapabili, è così, c'è qualche incomprensione? Assolutamente no, nessuna incomprensione. Ovviamente come in ogni partito c'è una discussione interna, si valutano le figure migliori, fortunatamente abbiamo la possibilità di scegliere da diverse figure molto molto qualificate quindi come è ovvio che sia andranno fatte delle scelte con il coordinamento provinciale e regionale per identificare poi la figura più indicata, le figure più indicate.